Voi davanti a questa squadra vi dovete inchinare, vi dovete soltanto inchinare, applaudire e rosicare in silenzio. Ciao a tutti ragazzi, ragazzi vinciamo 5 a 0 contro il Cagliari, un Napoli davvero perfetto ragazzi. Una serata davvero perfetta, prestazione da 10 da parte di tutti, è un Napoli davvero spettacolare, un Napoli che disegna calcio. Davvero su un campo tosto come quello di Cagliari, Cagliari che aveva cominciato questa partita con grandissima cattiveria. Abbiamo vinto con grande facilità 5 a 0 su un campo, ricordiamo, dove la Juve aveva vinto soltanto grazie ai soliti aiutini. Comunque cominciamo subito bene, abbiamo un'occasione con Mertens sul lancio d'insigne. Mertens si butta in scivolata, tocca appena il pallone, palla che esce di poco. Cagliari che all'inizio ha creato qualche azione pericolosa, tipo quella di Han, lì è stato davvero bravissimo Reina in uscita. Poi Pavoletti ha tirato, però il tiro è andato alto. A proposito di Reina ragazzi, Reina in questo periodo sta facendo davvero delle ottime prestazioni, lo vedo davvero molto attento. Sta facendo diversi grandi interventi e secondo me meriterebbe questo rinnovo perché sta facendo davvero un'ottima stagione. E mi dispiacerebbe davvero moltissimo se andasse via, ma a quanto pare purtroppo a giugno Pepe dovrebbe lasciare il nostro Napoli. Comunque poi ci portiamo in vantaggio verso il trentesimo minuto. Grandissima percursione di Allan che con il suo solito doppio passo arriva in area di rigore, la mette in mezzo per Callejon che mette dentro il gol dell'1-0. Grande azione di Allan e grande tiro anche di Callejon. Poi riusciamo a trovare anche il gol del 2-0 a fine primo tempo. Percursione di Sai simile a quella di Allan. Sai che prima la crossa in mezzo per Insigne, però la palla viene respinta dal difensore del Cagliari. Poi Sai riesce a riprenderla, la rimette in mezzo, Mertens ci mette lo zampino e riesce a segnare il gol del 2-0. Ed è stato davvero importante chiudere il primo tempo sul 2-0. Ma poi il secondo tempo ragazzi, il secondo tempo del Napoli è davvero da premio Oscar, davvero da manuale del calcio il secondo tempo ragazzi, mamma mia. Il terzo gol davvero che azione ragazzi, che azione su un grande lancio di Mertens. Dopo diversi passaggi, la palla arriva di Insigne e poi Amsic con un grandissimo tiro a giro mette dentro il gol del 3-0. Davvero grandissima azione e gol splendido del nostro grande capitano. Poi continuiamo a dominare la partita. C'è un tiro di Insigne che viene intercettato nettamente con il braccio da Castan. Ci viene concesso il calcio di rigore che Insigne tira davvero alla perfezione. Aveva intuito Cragno, però il rigore di Insigne è stato davvero perfetto. Rigore con il quale Lorenzuccio ha messo dentro il gol del 4-0. Inoltre ricordiamo che sullo 0-0 nel primo tempo c'è stato negato un rigore netto su Mertens. E non so lì come l'arbitro non sia andato a vedere il VAR. Comunque poi sul 4-0 abbiamo tantissime altre occasioni. Un tiro di Mario Rui, palla che esce davvero di pochissimo tiro che è stato parato da Cragno. Però poi alla fine il tocco di Cragno non è stato visto dall'arbitro. Il calcio d'angolo non è stato concesso. Poi un'altra grandissima azione con tutti i tocchi di prima dove Insigne la passa a Callejon. Però il tiro di Callejon va fuori. Poi già sul 3-0 c'è stata la sostituzione di Zielischi al posto di Mertens. Quindi Sarri che ha deciso di far rifiatare un po' Mertens. Poi è entrato dopo il gol del 4-0 maggio al posto di Sai. E poi alla fine è entrato di Avarà al posto di Giorginio. Che Sarri ha preferito togliere per non rischiarlo visto che era anche diffidato. E quindi in caso di ammunizione non avrebbe giocato la partita di sabato sera contro la Juve. Poi a 30 secondi... contro la Roma scusate. Poi a 30 secondi dalla fine calcio di punizione che Mario Rui segna. Davvero una perla ragazzi. Una perla di Mario Rui che quindi davvero si sta dimostrando un calciatore fortissimo. Sta entrando al meglio negli schemi del nostro Napoli. Davvero una vera e propria opera d'arte con la quale Mario Rui segna il gol del 5-0. E chissà che le punizioni diventeranno una specialità per Mario Rui. E quindi finisce così ragazzi. 5-0 manita del nostro Napoli alla Sardegna Arena. Secondo 5-0 consecutivo a Cagliari. Ricordiamo che anche la scorsa stagione a Cagliari vincemmo per 5-0. Poi analizzando le singole prestazioni di ognuno. Davvero grandissima prestazione da parte di tutti. Callejon ragazzi ma che partita ha fatto Callejon. Callejon è davvero da tutte le parti mentre lo vedi in attacco. Poi lo vedi a recuperare palloni a centrocampo in difesa. Davvero un fuoriclasse assoluto. Poi Alan ragazzi. Io davvero non ho più parole per descrivere la straordinaria stagione che sta facendo Alan. Oltre ad aver fatto 4 gol, tantissimi gol ce li sta facendo fare anche. Davvero un calciatore che in questa stagione ha avuto una crescita pazzesca. Poi si è sbloccato anche in signe. Amsic anche è tornato al gol. Isai anche grandissima partita anche da parte sua. È stato davvero bravissimo in occasione del secondo gol. Ragazzi siamo davvero troppo forti. Ce lo meritiamo tutto questo scudetto ragazzi. Ce lo meritiamo molto di più rispetto alla Juve. Ricordiamo che ora siamo a più 4 visto che la partita di ieri contro l'Atalanta è stata rinviata. Atalanta che aveva deciso di schierare una formazione davvero vergognosa con 3 primavera in campo. Senza 9 titolari e Atalanta che poi contro di noi fa le finali di Champions League. Ovviamente ora speriamo che quando questa partita si recupererà l'Atalanta la giocherà con la formazione titolare. Ragazzi poi questo nostro Napoli davvero sta raggiungendo record su record. Questa è stata la decima vittoria consecutiva. 69 punti dopo 26 giornate. Fuori casa tutte vittorie tranne il pareggio per 0 a 0 a Verona contro il Chievo. Che Napoli ragazzi. Che Napoli davvero. Dobbiamo essere fieri e orgogliosi di questa squadra che ci sta regalando emozioni su emozioni. Ora si ritorna in campo sabato sera al San Paolo contro la Juve. E io ragazzi sarò anche presente al San Paolo per quanto riguarda sabato sera. Quindi andremo tutti noi a sostenere il nostro Napoli in una partita da affrontare con la massima attenzione contro la Roma. Che sicuro vorrà riscattare la sconfitta contro il Milan. E poi ricordiamo che prima alle 18 ci sarà Lazio-Juve. E speriamo che la Lazio trovi la sua terza vittoria stagionale contro la Juve dopo quella in Supercoppa e quella di campionato. Ma diciamo anche un pareggio ci andrebbe bene lo stesso. Detto questo ragazzi io con tantissima gioia per la nostra splendida vittoria. Vi saluto, noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!